Siamo con Ronaldo al termine di Provercelli Crotone 3 a 2 tuo è stato il terzo gol un po' come contro il Catania no sempre su punizione grande parabola grande anche la scelta di pensare e poi di metterla lì proprio nell'angolino alto sì per fortuna è andata dentro diciamo però sono contentissimo perché era da un po' che l'aspettavo questo gol perché dopo tutto quello che ho passato secondo me meritavo una gioia così come hai detto te anche contro la partita un po' simile come quella contro il Catania e per fortuna siamo riusciti a portarla a casa. Ci avevi già provato anche nel primo tempo era uscita davvero di niente. Qua la forza del primo tempo era un po' più facile no? Anche se non è mai facile però era un po' secondo me la posizione giusta per me però la seconda ho calciato bene per fortuna ho fatto gol. Ora c'è Terni un'altra battaglia. Sì adesso c'è una transferta difficile come è stata la partita di oggi però loro hanno gli stessi punti di noi si vede che anche loro meritano di stare lì. Andremo fuori fuori casa per cercare di fare più punti possibili.